ciao benvenuti in un nuovo video allora oggi vi parlo di questo mascara super super chiacchierato di benefit in the real magnet un mascara magnetico che dite un mascara magnetico sì non so se l'avete letto le informazioni online un po ovunque dopo vi faccio vedere anche la scatola ma si tratta di un mascara che è questo che contiene all'interno delle particelle magnetiche che aiutano ad allungare e a mantenere allungate le ciglia durante il giorno questo è possibile grazie al applicatore che è questo che ha all'interno un cuore magnetico e quindi durante l'applicazione va ad attivare queste micro particelle magnetiche del mascara per dare questo effetto allungante a lungo allungante a lungo è perfetto non so se nella sì esatto anche nella confezione eccola qui vi mostra l'applicatore con questa parte magnetica e la parte interna dell'applicatore ma adesso dato che l'ho messo sotto test vediamo se mantiene le promesse intanto dice di essere un e di fondare a tradurre comunque powerful lighting e lecni mascara quindi super allungante mascara forza magnetica per delle ciglia lunghezza estrema formula allungante magnetica con minerali ok estrema lunghezza ed super chard black quindi super nero dunque prima di tutto il prezzo perché ci sono due versioni da sefora quella classica da 9 grammi a 29 euro e 90 se no questa che è la mini da 4,5 grammi a 16 euro e 50 io ho notato che spesso le aziende come in questo caso mi mandano i formati mini e io li ringrazio perché intanto riesco a provare il prodotto e poi dato che ho davvero tantissimi prodotti da provare a soprattutto le mascara non vado a sprecarli perché ad esempio io con questo ci faccio due settimane di test e poi dopo devo passare a un altro se c'è troppo prodotto ed è si secca lasciato lì ed è mi dispiace perché si ide sarebbe uno spreco mentre in questo caso riesco a utilizzarli quasi fino in fondo quindi ringrazio le aziende non c'entra niente per il formato mini ma anche grazie perché gli hanno pensati non solo da mandare ma anche per la vendita perché tante ragazze tante ragazze ed è comunque hanno soprattutto adesso che bisogna utilizzare la mascherina è inutile truccare tutto il viso si truccano soprattutto gli occhi e quindi davvero utilizziamo tanti mascara e quindi è bello non doverne sprecare tanti ecco ci piace ci piace questa cosa se ne spreca meno cioè è vero ha fatto economico 4,5 grammi 16,50 9 grammi che è proprio il doppio 29,90 converrebbe il grande però è vero che o lo usiamo sempre perché davvero ci fa impazzire oppure è uno spreco detto questo a proposito di sprechi non sono più abituata ad utilizzare idee rossetti classici in stick ma utilizzo sempre le tinte labbra perché sotto la mascherina che altro applichiamo in teoria niente ma in pratica io uso le tinte perché non le vanno a macchiare e ora ho messo questo rossetto che mi piace anche da impazzire ma non sono più abituata a portarli quindi sto anche guardando sempre che non vada nei denti questo è un altro discorso ma ora veniamo al prodotto ah ve l'ho mostrato è questo allora applicatore che forse ve l'ho già mostrato comunque eccolo qui è completamente in silicone con le settole molto cortine va ad acchiapparle bene tutte quante non rischiamo di macchiare più di tanto perché non è grosso quindi non rischiamo di macchiare la palpebra quando lo andiamo applicare si possono fare più applicazioni ma come avete visto questo è davvero nero quindi un paio di passate e davvero si vede la differenza più ne facciamo più è il risultato intenso l'ho applicato anche oggi sperate che mi avvicino e queste sono quattro passate e non ha fatto assolutamente grumi ma comunque ci sarà il test completo per mostrarvelo dunque formula super allungante per tutto il giorno ed è lo vedremo ma comunque sia vi dico sì e oltretutto è del colore extra black sì sicuramente ma prima di dirvi altro è il caso che iniziamo il test per tutto il giorno per vedere come si è comportato non credo di avere mai fatto un trucco così semplice ma almeno possiamo vedere assieme questo The Real Magnet di Benefit questo qui ecco c'è un'altra ok allora sono le 11 e 48 e iniziamo ufficialmente ed eccoci qui allora 16 e 25 e andiamo a guardare il mascara che penso che sia l'unica cosa del makeup che ancora mi ha detto perché sono stata a fare dei lavori in giardino allora eccola qua dunque dice di mascara e lunghezza e colore extreme lesi quindi super allungante lunghezza estrema vediamolo è rimasto bello nero non ha fatto grumi non ha perso pezzetti vedete facendo così appena appena qualche pezzetto ma le ciglia sono rimaste belle separate il colore è rimasto la aspettate la lunghezza è rimasta direi che per quattro ore si è comportato molto bene e ci vediamo quel posto la giornata ci qui allora terri al magnet vediamo come si è comportato sono le 20 e 14 guardiamo nero e nero intensità non l'ha persa non guardiamo il resto del make up che invece davvero ha subito comunque le ciglia sono non sono dure non perde pezzi non ha fatto allora qui è la matita per quello che faccio vedere l'altro occhio perché qui è la matita che colata forse devo sistemarla prima guardate non ha perso pezzi anche tirando perde pochissimo direi che davvero si è comportato bene ma ora vediamo come si comporta da magnato non è un mascara water non è water quindi vediamo magari se collaborasse anche da bagnato non perde assolutamente pezzi e sto proprio sgocciolando quindi a questo punto dobbiamo solo vedere come si strucca metti in pausa perché mi raccolgo le gocce come lo strucchiamo allora ho provato perché proviamo tutti e due proviamo uno struccante perché non l'ho provato io uso sempre questo proviamo con questo ed è questo è l'acqua micellare ed è che non si comporta male effettivamente quindi proviamo sapete che questa quale è in testa anche per me perché non ho mai provato con l'acqua micellare questa mascara perché sono abituata a usare sempre i struccanti oligosi oddio allora sì che la può fare ma stiamo entro domani e allora andiamo avanti e io uso questo è l'acqua micellare è un olio ed è stupendo e soprattutto massaggiamo un attimo sugli occhi ed è davvero ci mette un secondo se guardate finisco di fare questo comunque aveva tolto quasi tutto quindi l'acqua micellare si lo toglie magari una buona acqua micellare o uno struccante bifasico magari è meglio un bifasico comunque qualcosa apposito per il trucco waterproof qui ok e adesso con un dischetto e direi che è venuto via allora avete visto anche voi che davvero è un effetto wow soprattutto se ci piace questo effetto allungante perché non è molto volumizzante ma col fatto che così nero intenso si ha subito la differenza tra avere mascara e non averlo quindi si nota subito e poi dura davvero a lungo avete visto che durante la giornata ed è non secca le ciglia non le non fa i grumi ovviamente facciamo dieci passate i grumi li farà per forza c'è anche lui ha ragione però ha una bella formula acchiappa tutte le ciglia le allunga davvero un bel effetto che mi è piaciuto tanto durante il giorno non crea quei grumini che vanno a depositarsi sotto l'occhio quindi bello anche da vedere e poi veniamo al risultato dura tutto il giorno dura tutto il giorno non è un mascara waterproof ma avete visto la prova con l'acqua non ha fatto una piega quindi davvero si rimuove con qualunque struccante apposito per il trucco occhi quindi un olio un struccante bifasico un'acqua micellare apposita per il trucco waterproof perché un'acqua micellare classica dovete stare lì tanto usate un prodotto apposito per il trucco occhi o per il trucco waterproof ed è soprattutto sui contornocchi e sulle ciglia perché dovete stare a sfregare meno e rischiate meno di andare a spezzare mio consiglio poi ovviamente fate come preferite o come vi trovate meglio io utilizzo un olio oppure uno struccante bifasico ed si rimuove facilmente e si rimuove tutto quindi stra stra consigliato a me è piaciuto e ve lo stra consiglio allora fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come siete trovate io come sempre spesso è stata utile fatemi sapere le vostre curiosità fatemi sapere tutto qui nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino? mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estrago ogni mese ciao ciao